Isola dei famosi, Diletta Leotta conduttrice? Novità anche tra gli opinionisti Diletta Leotta dopo la delusione dei Latalpa si prende l'altro reality show? La mattinata non è iniziata nei migliori dei modi per la conduttrice del reality show di Canale 5 Difatti è stato riportato da Giuseppe Candela su dagospia.it che il suo programma a causa dei bassi ascolti dovrebbe chiudere prima del previsto Ma a quanto pare questa battuta d'arresto non dovrebbe compromettere la sua carriera in tv, anzi Difatti si segnala che l'autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia, direttamente nella sua newsletter, ha rivelato di essere venuto a sapere che potrebbe essere la prossima conduttrice della nuova edizione dell'Isola dei famosi visto che Latalpa sarebbe stata apprezzata molto dagli inserzionisti e dai dirigenti Mediaset L'Isola dei famosi, Vladimir Luxuria torna a fare l'opinionista? Gabriele Parpiglia, dopo aver rivelato che ci sarebbero concrete possibilità di vedere Diletta Leotta alla conduzione della prossima edizione del reality show della Miraglia Mediaset, ha anche colto l'occasione per svelare un'altra novità Di cosa si tratta? Riguarda gli opinionisti Difatti a quanto pare la luxuria da conduttrice dell'ultima edizione della poco fortunata edizione dell'Isola dovrebbe tornare a ricoprire lo ruolo di opinionista al fianco del confermatissimo Dario Maltese Che nella scorsa edizione dopo un inizio molto timido ha poi saputo imporsi con i suoi giudizi sempre più ficcanti nei confronti dei vari naufraghi Per quanto riguarda invece il capitolo legato all'inviato non è dato sapere se verrà confermata nuovamente Eleonora Casalegno dopo l'ottima performance della scorsa edizione oppure tornerà al vino o decideranno di affidare quel ruolo a qualcuno di nuovo Cast del reality show, in pole position il marito della conduttrice Successivamente Gabriele Parpiglia ha rivelato che per quanto riguarda il cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che pare passerà nella mani di Diletta Leotta dopo il flop di La Talpa, ci sarebbe già un nome caldo Di chi si tratta? In base alle voci di corridoio raccolte dal giornalista e autore tv ci sarebbe un pole position per partecipare al reality adventure il marito della presunta nuova conduttrice Loris Karius, il quale è rimasto senza una squadra al momento per un qui pro quo Insomma mancano comunque ancora tanti mesi al ritorno del reality show, ma Mediaset pare sia già all'opera per mettere a punto la nuova attesa edizione che gioco forza ha bisogno di un rilancio dopo i magri ascolti ottenuti nella scorsa stagione televisiva La Leotta riuscirà a dare una svolta al programma?